Credo che in un paese libero, in un paese democratico, ognuno del suo corpo possa farne quello che vuole. La mia libertà e la mia dignità valgono più di una sperimentazione. Ha rifiutato di vaccinarsi Enzo Palladino, 52 anni, infermiere del reparto di endoscopia digestiva all'ospedale di Torrette di Ancona. La legge infatti non prevede un obbligo per gli operatori sanitari, che però in questo caso possono essere demansionati con una ricaduta sullo stipendio. Questo fatto, per me, che io mi sono sentito anche Ro e Angelo qualche mese fa, adesso mi sembra un vero e proprio ricatto. Quindi il problema non si basa neanche sulla scientificità, vaccino sì, vaccino no, ma sul fatto di vedermi violato forse è un diritto alla persona. Non sono un no-vax, ci tiene a precisare. Ho fatto tre vaccini anti-influenzali, ma questo, per come è stato imposto, l'ho rifiutato. Innanzitutto, spiega Palladino, perché chi lo somministra è esonerato dai reati di omicidio colposo e lesione colposa, il cosiddetto scudo penale. L'infermiere, così, ha deciso di scrivere una lettera non solo alla sua azienda, ma anche al Presidente della Repubblica e al Ministro della Salute, ma ancora nessuna risposta. Ho scritto come un cittadino libero, una persona che ci tiene alla sua libertà, ci tiene alla sua dignità e purtroppo i tempi sono molto veloci, si corre nel far tutto e forse il legislatore ha dimenticato che prima di mettere le mani su una persona ne dovrebbe chiedere il consenso. Enzo, che è seguito da tre legali, è anche Presidente nazionale e regionale dell'Associazione Laisa, lavoratori indipendenti della salute. Il sindacato, ci racconta l'infermiere, ha sposato appieno questa battaglia, nonostante che all'interno del direttivo ci siano persone vaccinate. Combattiamo tutti, ha detto, per un diritto personale violato. A sostenerlo anche tanti colleghi e cittadini di tutta Italia, centinaia infatti, le attestazioni di vicinanza. Io non ho fatto nulla di eclatante, ho avuto paura di questo tipo di vaccino, dove ricordiamolo è comunque un qualcosa di sperimentale e poi certo qualcuno lavora per mettere alcuni cittadini contro gli altri, in modo particolare gli operatori sanitari che non intendono vaccinarsi. Viene messo in contrapposizione un diritto di un operatore con il diritto di un paziente, senza sapere che entrambi sono delle persone. Quindi l'operatore in questo frangente viene visto come un untore, come una macchinetta e quindi deve sottostare ad alcune regole, ad alcune imposizioni per non contagiare qualcun altro che è, si dice, un utente fragile, una persona fragile. La fragilità può stare pure dall'altra parte. Enzo non è preoccupato per un eventuale licenziamento? Non mi spaventa, cioè se pensiamo che i nostri nonni, i nostri bisnonni per la libertà hanno dato la vita, io potrei tranquillamente per onorare il loro operato dare sicuramente il posto di lavoro che io ho vinto con concorso, quindi non l'ho comprato, non ho sottratto nulla a nessuno. La mia libertà non vale 1.500 euro al mese e il mio corpo non vale 1.500 euro al mese, quindi tranquillamente potrei essere licenziato, ma potrò fare un altro lavoro, non ho di questi problemi. Non sono mai uscito fuori dall'Italia in 52 anni. Se sono questi i canoni della democrazia italiana, posso valutare pure questa situazione.